Il tema di quest'anno del premio Galeria Solitarse è stato particolare, dedicato ai cent'anni della presa di fiume da parte dell'esercito italiano di capeggiato da Gabriele D'Annunzio. Fu un tentativo che non vide nessun colpo di artiglieria, con il poeta che entra nella città seguito da 2.000 soldati e da 149 calabresi. La partecipazione dei calabresi alla presa di fiume è un dato nuovo che esce fuori dagli archivi, che finalmente possono essere consultati dopo un periodo di divieto che è dovuto ai 70 anni del vincolo. Io stasera ricorderò solo alcuni di questi grandi del passato che si sono sacrificati se stessi per la patria e per la conquista di fiume. Ad esempio Francesco Spizzirri oppure Aristide Manessi, colonnello di fanteria di San Benedetto Tullano, che è poi uno dei grandi amici di Gabriele D'Annunzio. Manessi vive direttamente e a contatto quotidiano con il Vate e insieme a lui il 20 giugno del 1920 fonda la scuola dei legionari, quelli che dovevano essere preparati poi alla licenza liceale, all'ammissione delle nuove classi. E lo fa con una poetessa, una grande letterata di Bergamo, Tullia Tanzi, che si distingue dalle altre donne che partecipano all'impresa di fiume per la sua grande modalità. Tant'è vero che la troviamo poi anche sulle barricate, quando la città deve cedere all'esercito italiano mandato da Giolitti nel giorno di Natale del 1920. Quindi fiume non più lontana dalla Calabria, ma che viene occupata anche da tanti calabresi importanti. In primo luogo questo colonnello Manessi, che continua a mantenere anche negli anni successivi una corrispondenza importante con Gabriele D'Annunzio. Tant'è vero che nel momento in cui la città viene annessa all'Italia, Manessi porta lì la bantiera dei fratelli bantiera conservata a Cosenza, lasciata dagli eroi dopo la rivoluzione del 1844, e su questo bantiera giudono fra realtà all'Italia tutti gli uomini e le donne di fiume. Grazie a tutti.